ah che sburato che glielo dice parte è una goduria che gli dice avvia video e lei parte stop a video? no di gopro prima se no gopro stop a video? no come era gopro gopro arresta video è una figata ciao ok ci siamo prossimo video fortunatamente avevo tenuto dei video caricati cioè caricati delle cose filmate da parte in emergenza per fare dei video quando non avevo filmato non avevo da filmare e ma l'occhio nell'altra parte vabbè è la front camera giustamente riprende a specchio e si gira comunque talaria moto elettrica mezzi elettrici qual è sempre la prima domanda quanti chilometri fa quanti chilometri fa allora in questo video ho testato la talaria per vedere quanti chilometri faceva e non sono rimasti piedi fatto un tot di chilometri lo vedete nel video gustatevelo tanto sono 7-8 minuti di video faccio due tre curve faccio un po' di colline faccio un po' di dritta torno indietro vado su e vado giù vi lascio al video allora partiamo ora oggi test verifica batteria vediamo un po' se rimaniamo a piedi o no allora 431 chilometri odo faccio questo perché è problema che abbiamo già parlato con la talaria adesso lo risolvono i chilometri parziali tutte le volte che spegni che la spegni si azzerano quindi siamo tenuti in memoria i chilometri totali ciao patatoni ciao morfeo vediamo dopo sempre prova audio mentre andiamo ho il casco in testa e andiamo su con un passo medio senza tirar troppo e senza neanche risparmiare troppo vai e 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 allora intanto che di hl sono lontana vi faccio vedere la so se si vedrà dove stanno dove stanno ruspando lì lì ci verrà tutto il il centro sportivo il centro sportivo cross di dovizioso e se tutto va bene fanno una pista anche per le per le moto così elettriche oh ormai mi ammazzavo ormai mi ammazzavo o ormai mi ammazzavo il centro sportivo è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono andato non dico sempre in piena ma quasi e ho 41% di batteria che poi adesso stando lì ferma sicuramente aumenta tornerà al 45-46 più o meno. Adesso la spegniamo. Mi ha fatto piacere. Stiamo bene. Ciao. Sì, sì. Ciao, ciao. Ciao. Signore quanto tirava, quindi 39%, ritorniamo giù, vediamo se riusciamo a ritornare a Faenza, altrimenti chiamiamo l'assistenza talaria e ci facciamo venire a prendere. Quindi andiamo giù con calma, non rifacciamo i monti, facciamo la statale normale che è tutta dritta in discesa, può darsi che ci arriviamo a pelo. Vabbè, ciao. GoPro arresta video. Allora, abbiamo fatto altri 14 km, ho la batteria al 20%, è andata nel rosso adesso, sono in eco, però facendo i 40-45 km orari. Vediamo se arriviamo a Faenza, dovrebbero mancarmi altri sì e no 10 km, ma neanche, siamo quasi a Castel Bolognese. Vediamo, vediamo, suspans, suspans. Fiori di pesco, fiori di ciliegio, albicocco, che ne so. Belle le campagne in primavera. Ciao. Allora, abbiamo fatto 50 km e c'ho ancora il 12, ancora, c'ho il 12% di batteria, siamo quasi a Faenza, avrò rimasto 5 km, dai che ce la facciamo. Sto andando ai 40 all'ora, più o meno. E ce l'abbiamo fatta. E di 42, siamo a Faenza, abbiamo fatto 52 km, ho il 9% di batteria. Dobbiamo farne ancora due almeno, vai che ci arriviamo. Ok, siamo arrivati, abbiamo fatto, si a zera, no, possiamo far così, era 431, quindi 55 km, 5% di batteria. Però ce l'abbiamo fatta, siamo andate a Borgo Rivo e ci siamo tornati indietro. Ecco, però, resta video. Ecco. 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 Grazie a tutti.